Giovedì 8 gennaio 2015, ben trovati con l'edizione del nostro telegiornale, apriamo con il Consiglio regionale scalzo eletto Presidente, D'Agostino e Gentile Vicepresidenti Graziano e Neri Questori, vediamo il servizio. Antonio Scalzo, Partito Democratico, 60 anni medico, il Presidente del Consiglio regionale della decima legislatura della Regione Calabria. Ieri pomeriggio intorno alle ore 15 l'Assemblea Consiliare a norma dell'articolo 20 dello Statuto ha eletto Scalzo che ha riportato 22 preferenze a primo scrutinio. Torino Scalzo è entrato in aula alle 14.36, insieme agli altri 30 consiglieri si è impossessato dello scanno più alto di Palazzo Campanella in soli 20 minuti. Nulla ha potuto neppure lo sbarramento che fissava in due terzi, cioè 21, i voti necessari per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale della Calabria. A fronte dei 19 voti disponibili nel centro-sinistra, Scalzo ha chiuso a quota 22. In soccorso della maggioranza è arrivato infatti il nuovo centro-destra di Pino Gentile che è passato alla cassa appena un attimo dopo. L'arto centro-destra, quello cioè con Forza Italia e Casa della Libertà, si è invece astenuto allontanandosi dai banchi sia alla prima che alla seconda chiamata. Unica eccezione è Franco Carnizzaro, Casa della Libertà, che è stato chiamato assieme a Nicola Irto del PD al tavolo della Presidenza nella sua qualità di consigliere più giovane. L'Aula ha quindi proceduto alla elezione poi degli altri componenti dell'ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio regionale. Sono stati eletti due vicepresidenti, il primo Francesco D'Agostino, lista Oliverio Presidente con 14 voti, Vicario e Giuseppe Gentile, nuovo centro-destra con 8 preferenze. Segretari Questori invece, rispettivamente con 12 voti Giuseppe Neri, lista Democratici progressisti e Giuseppe Graziano, Casa della Libertà con 18 preferenze. Quindi tra trasversalismi, ciuce, qualche mal di pancia, il Consiglio regionale della Calabria è il suo Presidente e il suo ufficio di Presidenza. Chiusa la votazione, sul ufficio di Presidenza a prendere la parola è stato il Governatore Mario Oliverio. Rimandate le linee programmate alla prossima seduta. Il Presidente della Giunta punta tutto su sobrietà e rigore, ma ha chiesto l'immediata approvazione della legge che consenta l'esercizio provvisorio del bilancio con cui si potrà garantire il funzionamento della Regione Calabria, oltre a pagamento anche degli stipendi. Una legge questa corredata da due importanti emendamenti. Il primo servirà a sbloccare le risorse per la manutenzione straordinaria in tema di rifiuti, mentre il secondo provvedimento ridurrà del 50% gli emolumenti per i dirigenti impiegati dalle società in house. Legge ed emendamenti sono passati a maggioranza con la stenzione sempre di Forza Italia e Casa della Libertà. Un'animità invece per la proroga del piano casa fino al 2016. E proprio ieri il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, prima dell'inizio della decima legislatura ha ricevuto a Palazzo Campanella l'atleta regina Giusy Versace. Ieri mattina, in forma a una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha ricevuto la nota atleta regina Giusy Versace. Si è trattato di un incontro molto cordiale nel corso del quale la campionessa si è detta onorata di essere ricevuta dal Presidente della sua regione, dal quale ha anche avuto un omaggio floreale. Riferendosi alla sua recente esperienza in qualità di ballerina negli studi della nota trasmissione di Rai 1 ballando con le stelle, Giusy Versace ha dichiarato che si è trattato di un'esperienza dura, ma è comunque contenta perché ha incontrato molta gente nuova. Il Presidente Oliverio, dal canto suo, si è detto lieto per quello che la Versace riesce a dare nel campo dello sport e per quanto è riuscita a dimostrare anche in una trasmissione nazionale di grande successo, portando un'immagine della Calabria autentica, capace e intelligente, diversa da quella negativa che spesso si tende a diffondere. È stato un piacere, dobbiamo fare in modo di valorizzare questa figura, detto Oliverio, anche nell'appuntamento dei prossimi mesi che ci viene offerto dall'Expo a Milano dove tra l'altro la Versace risiede. Mafia Capitale, i rapporti con la Andrangheta, i giudici confermano i legami, gli indagati restano in carcere? Tutto confermato, almeno secondo i giudici del Riesami di Roma sarebbero provati i collegamenti tra le due organizzazioni criminali. Confermato nel provvedimento il carcere per Massimo Carminiti e altri suoi stretti collaboratori come Riccardo Bruggia, Fabrizio Franco Testi e Roberto Lacopo, arrestati per associazione di stampo mafioso. I giudici hanno sostenuto, vi è prova che la mafia capitale ha avuto rapporti d'affari con l'organizzazione mafiosa calabresi e che le due compagini hanno interagito tra loro dimostrando rispetto reciproco. Dalle conversazioni intercettate si evince chiaramente che le due organizzazioni sono sullo stesso piano di importanza e che si spartiscono le sfere di competenze territoriali ed economiche. Per il Tribunale del Riesami è di immediata evidenza che se una consolidata associazione di stampo mafioso come l'Andrangheta decide di interagire con un'altra organizzazione per la gestione degli affari illeciti vuol dire che riconosce a tale organizzazione la medesima dignità criminale che ritiene di possedere. Nello specifico dalle indagini risulta che Carminiti sia da anni in affari con il clan Mancuso di Limbadi attraverso la figura di Giovanni Campenni, imprenditore di riferimento di quella cosca andranghetista. Intanto restano in carcere Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero, gli ultimi due e finire in manette nell'ambito dell'indagine su mafia capitale. Lo ha deciso il Tribunale del Riesami, preseduto da Bruno Azzolini che ha respinto la richiesta della difesa di revoca o modifica dell'ordinanza cautelare. Rotolo e Ruggero sono accusati dalla Procura di Roma di associazione di stampo mafioso perché sospettati di aver garantito il collegamento del Cammancuso di Limbadi rappresentato a Roma dall'imprenditore Giovanni Campenni ed alcune cooperative legate a Salvatore Buzzi con il benestare di Massimo Carminati. E ancora disoccupazione, nuovo record a novembre del 13,4%, Calabria record la disoccupazione al 20,6%. Nuovo record a novembre del tasso di disoccupazione che ha raggiunto quota 13,4%, un aumento dello 0,2% rispetto al mese di ottobre. E' il massimo storico, giovani il tasso sale al 43,9%, la Germania ha il dato ai minimi 6,5% mentre la Calabria ha il record disoccupati, 20,6%. Lo comunica l'Istat, si tratta del massimo storico, il valore più alto sia dall'inizio delle serie mensili in gennaio del 2014 sia delle trimestrali, ovvero dal 1977, 37 anni fa. I disoccupati a novembre hanno toccato la cifra di 3.457.000 con una crescita di 40.000 unità rispetto a ottobre, quindi un più 1,2% e di 264.000 sulla base annuale più 8,3%. Penalizzati soprattutto i giovani che subiscono le conseguenze, il tasso di disoccupazione infatti dei giovani dai 15 ai 24 anni a novembre è balzato al 43,9%, rialzo dello 0,6 punti percentuale su ottobre, il valore più alto di sempre. Risultano in cerca di lavoro ben 729.000 under 25, nel mezzogiorno il tasso di disoccupazione giovanile, cioè quella dai 15 ai 24 anni, supera il 50%, in totale il tasso è il 50,5%, suddiviso nel 46,7% maschi e 56,1% per le donne, al nord la disoccupazione giovanile è al 29,7%, al centro al 39,3%, mentre in Calabria il record disoccupati sono il 20,6%. Villa San Giovanni, operazione dei carabinieri che hanno arrestato un giovane albanese per furto e in seguito alla perquisizione della sua abitazione hanno anche ritrovato diversi chili di rame rubato da un altro coinquilino, anche egli cittadino albanese. Rapina e lesioni personali a danno di una ragazza romena, queste le accuse per via delle quali i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Villa San Giovanni hanno tratto in arresto Kasia Simon, un ragazzo albanese di 23 anni che alle ore 23.30 circa del 5 gennaio scorso si era introdotto nell'abitazione dove la vittima Alina Galateanu, ragazza rumena di 18 anni, è domiciliata come badante. Il ragazzo albanese dopo essersi introdotto all'interno della casa mediante violenza si è impossessato della somma contante di Euro 100 unitamente a due telefoni cellulari dandosi repentinamente alla fuga. I militari dell'arma prontamente intervenuti hanno immediatamente identificato l'autore del reato e lo hanno intercettato lungo via nazionale di Villa San Giovanni intenzionato a rifugiarsi nel proprio domicilio. Una volta perquisito i carabinieri hanno recuperato tutti i beni indebitamente sottratti e li hanno riconsegnati alla legittima proprietaria. Quest'ultima oltre al grande spavento ha riportato fortunatamente solo lesioni levissime guaribili in pochi giorni. Per caia sono quindi scattate le manette e al termine delle formalità di rito l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Argilla. Successivamente, in seguito alla perquisizione effettuata presso il domicilio dell'arrestato, gli stessi militari dell'arma di Villa San Giovanni hanno rinvenuto 13,8 kg di fili di rame in matasse di presumibile provenienza furtiva celati all'interno di uno zaino il cui possessore è stato identificato nel coinquilino del caia di nome Yana Murat, anche egli cittadino albanese classe 1992. Quest'ultimo è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, mentre il rame che vediamo in questa immagine è stato sottoposto a sequestro. Infine, rotatoria di melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria che sarebbe incompatibile con le norme sulla sicurezza stradale. Il comitato spontaneo Torrente Oliveto chiede la radicale delocalizzazione. Vediamo il servizio. Il comitato spontaneo Torrente Oliveto si è espresso mediante il suo responsabile. Vincenzo crea circa la rotatoria di melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria i cui lavori sono stati ultimati da pochi giorni e che secondo il comitato risulterebbe incompatibile con le norme sulla sicurezza stradale. Coloro i quali compongono il predetto comitato si sono interrogati sull'ubicazione della rotatoria di melito Porto Salvo che risulta di fatto in prossimità della Galleria Calvario che presenta certamente qualche criticità. Nello specifico con riferimento alla costruzione della rotatoria di melito di Porto Salvo è stato chiesto alla locale amministrazione comunale i sensi della normativa vigente copia del verbale della conferenza dei servizi a fine di conoscere il parere espresso dall'ente comunale sull'intervento ricadente sul proprio territorio. Ma la richiesta a quanto pare non è stata accolta in quanto tale documento secondo il comune di melito di Porto Salvo avrebbe dovuto essere richiesta all'ANAS di Reggio Calabria pertanto sulla base delle seguenti considerazioni sono state richieste al precitato ente comunale notizie sull'intervento de quo. Il comitato spontaneo Torrente Oliveto infatti ha voluto evidenziare come le intersezioni possono essere realizzate in viadotto in corrispondenza di opere di sostegno ed in galleria escludendo in quest'ultimo caso di ubicare le aree di diversione di immissione nelle zone di imbocco e di uscita delle gallerie. Sebbene abbiano eliminato le manovre di diversione con la significativa riduzione dei punti di conflitto mantengono comunque le manovre di immissione di entrata e uscita dalla rotatoria stessa della galleria di melito di Porto Salvo al chilometro 31 100 sulla statale 106 Ionica e che possa ricadere nelle condizioni di non compatibilità. È stato chiesto dunque al comune di melito se nel corso dei lavori della conferenza di servizi gli interventi di discussione del progetto hanno trattato le osservazioni in questione quindi di quali siano state le motivazioni tecniche che hanno determinato il disattendere della normativa del codice della strada che nella categoria di intersezioni a raso individua le intersezioni lineari a raso e le intersezioni a rotatoria e al punto 1 delle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali definisce i criteri per l'ubicazione delle intersezioni in una rete stradale. Considerato che la copia del provvedimento in questione è stata anche richiesta all'ANAS di Catanzaro, alla condirezione tecnica dell'ANAS di Roma, agli ispettori delle opere pubbliche di Palermo e di Catanzaro e al comune di Reggio Calabria senza ottenere quanto richiesto, precludendo così all'Associazione Torrente Oliveto il diritto di partecipare al procedimento amministrativo. Tutto ciò ha fatto sorgere forti dubbi al Comitato sull'esistenza di tale atto pubblico e che comunque qualcosa non si voglia portare a conoscenza della collettività. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e a tutti voi buon proseguimento con le nostre trasmissioni.